Presidente, il suo saluto alla squadra, cosa ha detto a questi ragazzi? Li ho salutati, gli ho detto di impegnarsi molto, che la stagione sta iniziando, questo è un ritiro che mixa il lavoro e il tempo libero, però deve essere già preso con la giusta mentalità, bisogna creare già un bel gruppo, che deve essere la nostra forza, perciò ho detto che bisogna essere molto motivati, bisogna essere ambiziosi, però non bisogna dimenticare l'umiltà e la determinazione che c'è contro il distinto in questi anni. In migliaia al tardini per la presentazione di Antonio Cassano, in migliaia possiamo dirlo a Ostuni per il saluto che questa città ha voluto riservare al Parma, davvero un grandissimo entusiasmo, come da anni non si vedeva. Sì, questo è di buono spiccio, vuol dire che stiamo lavorando bene, siamo tornati nei quartieri medio-alti della classifica, speriamo di confermarci e di fare qualcosa di importante, ripeto ancora, non perdiamo l'umiltà e la determinazione che ci ha contraddistinto. Tra i tanti arrivi abbiamo visto anche tanti giovanissimi, visto che si diceva comunque di una squadra di senatori che il Parma potesse in qualche modo aver abbandonato il progetto giovani, c'è un giovanissimo Iankovic, un Mendes, i giovani non mancano in questo parma. Io credo che troppi parlino di giovani e poi non ne prendono, noi abbiamo vinto il campionato allievi, lo scudetto e non è una cosa a caso, abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo fatto del settore giovanile la nostra forza, abbiamo all'interno della squadra dei giocatori, io credo molto importanti, che sono non giovani ma di più, i senatori sono rimasti pochi, ahimè, ma gli altri che fanno parte del gruppo sono tutti giocatori che hanno una media di 25-26 anni, perciò credo che noi abbiamo la possibilità di crescere, abbiamo la possibilità di far crescere dei ragazzi giovani e continuare con la nostra politica. Un po' di meritato riposo anche lei, allora Presidente ci vediamo con lei. Sì, adesso ci vuole ancora qualche settimana, dopodiché andremo un po' in vacanza, l'importante è che la squadra si impegni e sia pronta per l'inizio del campionato.